Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono sempre io che rompo le scatole con la stessa intro da tre video Per tutta la settimana vi vedrete acconciato così, credo Perché oggi andrò a fare un decluttering di tutti i prodotti viso Dopo aver fatto vedere la Makeup Collection non ha senso fare un video decluttering Che in realtà è avvenuto prima Però sapete che in questo canale accadono cose strane e random Quindi buon video decluttering, vi mando un bacione Ci vediamo al prossimo video che sarà grazie a Dio lunedì prossimo Con, indovinate, un altro look Direi di partire dai primer occhi Partiamo da questo qua che è il Fixed Chaos Primer Occhi di Mulac Mi sono sempre trovato bene con questi primer occhi Ad eccezione di quando ho fatto il video Nabla vs Health Che ha funzionato male con entrambe le polveri Non so per quale motivo Ad ogni modo lo tengo perché con gli altri ombretti che ho utilizzato Mi è sembrato una buona base opaca Quindi buona anche per la mia palpebra oleosa Non ho avuto problemi di sfumatura Primer occhi di Nars Questo qua raga veramente ce l'ho da pochissimo L'ho ricevuto da parte di Look Fantastic E lo sto ancora testando Mi sembra più indicato per pelli agie o secche Comunque perché la vedo una texture molto molto liquida Però continuerò a testarlo Vado a declutterare il primer occhi di Anastasia Purtroppo per i miei gusti è eccessivamente secco Mortalmente chiaro Fa texture Si asciuga subito Ed è troppo troppo asciutto per i miei gusti Quindi lo decluttero Vado a declutterare questo primer occhi di Milk Semplicemente perché per la mia palpebra è veramente troppo troppo idratante È ingestibile E non mi è piaciuto Devo dire neanche per il discorso del perioculare Preferisco applicare più la Hydro Grip sul perioculare che questo Quindi purtroppo tengo assolutamente entrambe queste basi glitter primer di NYX È uno dei prodotti meglio riusciti del brand È perfetto per l'applicazione degli shimmer e dei glitter Ho visto che ogni tanto mi scrivete che avete problemi con questo prodotto Raga secondo me conviene applicarlo sulla mano E poi dopo averlo lavorato Stenderlo poco poco sulla palpebra Perché comunque ha un forte potere incollante E quindi tende a depositarsi e rimanere lì Proprio perché è mega long lasting Se invece lo applicate stratificandolo piano piano vedrete che funziona Per me è super top e lo tengo assolutamente Così come vado a tenere tutte le mie basi di P.Luigi P.Louise Non trovo la mia Vabbè dettagli Comunque le tengo tutte e tre Colorazione Rumors 2 Rumors 5 Che è quella di Omoro un po' più scura Quando voglio degli smokey veramente pesanti E la Zero che funge da base bianca È perfetta perché gli ombretti si sfumano da dio Rimangono un sacco E sono super super Evidenziate a livello di pigmentazione Dove trovare P.Louise Raga Su Be Perfect Nella sezione Megastorno Dogana Di conseguenza tengo anche tutte queste qua Che sono le stesse basi ma colorate E tengo anche queste che fanno parte della famiglia opaca Nel senso che mentre quelle di prima sono bagnate Per essere fissate devono necessariamente essere settate con l'ombretto Queste qua si asciugano da sole in 60 secondi Perfette per fare i dettagli Tengo l'Eyeshadow Keeper di Inglot Perché mi piace veramente tanto Trovo che quei loro pigmenti e i loro ombretti funzioni da dio Declatero questo qua di Fotofenix Hydra Under Eye di Smashbox Tanto vale usare una crema idratante Tengo anche questa versione anti-aging del primer di Urban Decay Perché è il nuovo Me l'ha mandato il look fantastic È scontabile Poi vi lascerò direttamente i link di tutti i siti Piuttosto che dei singoli prodotti Perché sennò veramente non finiamo più Preferisco la versione classica Questa qua è molto idratante Perfetto per le palpebre se Passiamo ai primer viso Oddio tanto che difficoltà Tengo assolutamente questo qua di Too Faced Il Prime Then Pour Less Perfetto in combinazione con la sua cipria Per avere una base matta e molto divigata Declatero questo oliettino qua di Inglot È super funzionale Perfetto per la pelle secca Al G Per ammorbidire qualsiasi tipo di fondotinta Però preferisco tenere quello di Mesauda E per lo stesso motivo Vado a declaterare anche qua Quando dico declatero raga Rifaccio sempre questa premessa Per chi magari si è collegato di recente Non ho ancora visto gli altri declatering Declaterare vuol dire Non butto se non è scaduto Ma regalo O a chi ha più bisogno Ad associazioni O amici O magari mando qualche pacco a sorpresa Quindi declatero Sublimatori di incarnato Hollywood Flawless Filter Di Charlotte Tilbury È penso uno dei miei primer preferiti in assoluto Perla Impercettibile Dona glow alla base E leviga all'incarnato Lo tengo Tengo anche questo qua di Rare Beauty Non è il mio preferito della categoria Perché è illuminante Però abbastanza leggero Non mi ha fatto niente di male Devo dire la verità Quindi lo tengo Non ho problemi per non tenerlo Tengo questo qua di Mesauda Perché è ultra performante Costa poco anche da consigliare voi E collaboro regolarmente col brand Quindi mi tornerà sicuramente più utile I primer di Mesauda raga Sono stupendi per il prezzo che hanno Allora in cuor mio lo vorrei declaterare Perché non vedo niente di che Però l'ho pagato tanto E quindi gli do un'altra chance Primer di Smashbox Ho fatto una campagna per queste nuove versioni Ho quella idratante Che adesso non so più dove L'ho utilizzata stamattina per un contenuto Che è la mia preferita Ho già declaterato quella verde per i rossori Perché io non ho rossori Quindi non lo utilizzo Tengo assolutamente questo qua Mattifying Per opatizzare è meraviglioso Tengo anche questo qua Illuminante E vado a declaterare questi due Non perché non siano validi Anzi il Minimize Pore O Pore Minimizer è veramente efficace Ma sono tanto vecchi questi due Quindi sono sicuramente scaduti E la texture si è indurita molto Secondo me Quindi declatero loro Mentre tengo questo qua Photo Finish di Original Perché mi è arrivato neanche qualche mese fa In un pacco PR Quindi è nuovo Allora Vado a declaterare questo primer qui Di Elf Cookies and Dream Perché nell'universo Low cost È caruccio Però essendo che Io ho soluzioni Molto più efficaci Questo qua So già che A parte qualche contenuto Che ho già fatto di recente Non andrei ad utilizzarlo Quindi lo regalo Sì però se passano tutti questi aerei Io non finisco più veramente Cioè lo mollo là Poi abbiamo questi due primer All Nighter Di Urban Decay Uno dei miei primer in assoluto preferiti Buona base collosa Leviga leggermente la pelle Tengo questo qua Che è più nuovo Reperibile su Look Fantastic Col mio codice sconto Per avere uno sconticino E questo qua Che è praticamente terminato Raga Saremo proprio qui a livello Lo vado a declaterare Questo primer qua Di Nars Devo dire che mi piace molto È molto luminoso Sottile E idratante Con una perla Rose Gold Che uniforma un po' All'incanato Lo tengo Tengo questo qua Che ho appena ricomprato Da poco Se vedete infatti qui in basso Già che c'è il sistema airless Io adoro Hydro Grape Primer Di Milk Uno dei miei primer preferiti Se non il mio primer preferito Con base collosa E idratante Vado a declaterare Questi due primer Di Benefit Perché Uno Questo è troppo vecchio E due Questo non l'ho trovato Molto efficace Sebbene sia in più Airlist Del brand Sapete che dico Quello che sento Insomma E quindi vado a declaterarli Mentre Tengo questo qua Che è fantastico Di Make Up For Ever E veramente efficace Sui miei pori Ed è uno dei più performanti Per quanto riguarda i pori Versione low cost Per dire che Leviga i pori Centomila volte So che è strano Sentirlo dire da me Centomila volte Questo qua Per i nix Rispetto a quello lì Di e.l.f. Skill nova di vive Raga Devo dire la verità Non mi fa impazzire Lo tengo solo perché Il pack è bello E che l'ho usato poco Gli devo dare più chance Hangover primer di Too Faced Se cercate un primer Idratante Non eccessivamente peso Quindi meno di quello Di Smashbox Di quello di Milk No quello di Milk È più colloso Meno di quello di Smashbox Questo qua è perfetto Tengo questo primer Di One Size Che è Blurring È appena arrivato Raga L'ho usato due volte E tengo totalmente Questi due di Mesauda Se volete spendere poco Supportare i brand italiani Questi sono due ottimi primer Assieme a quello che vi ho dato Zero Flows È levigante Non è il più levigante Shine Free È molto mattificante È veramente valido Passando ai fondotinta Questa sarà la vera E grossa challenge Del video Ho veramente Una sessantina Adesso non mi ricordo Settantina di fondotinta E devo necessariamente Eliminarli Per chi vuole Nessuna recensione Completa di questi prodotti C'è il video dedicato Che lascerò qui Da qualche parte Nello schermo Per avere tutte quelle Che sono le mie impressions Scusate se quando su Instagram Mi chiedete Che fondotinta Com'è questo Com'è quello Io vi rimando sempre A quel video Ma l'ho fatto apposta Partito dal presupposto Che mi piacciono Quasi tutti questi fondotinta Perché sono reduci Da anni di decluttering Devo andare A declutterare Probabilmente toglierò Tanti fondi Che mi piacciono tanto Ma farò una scelta Di contenuti Di utilizzi Di colorazioni Di finish Di miei gusti cambiati E bla 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 Indi per cui Too Faced Matte Non sono più nel mood matte Lo decluttero Ma ma questo è peso Too Faced Board This Way Classico Lo tengo Poi Le due nuove uscite Di Nars Il Light Reflecting Foundation Li tengo entrambi Sono le mie due colorazioni Fige e Pungia Beh stupendo Per le due volte In cui l'ho provato Mi è piaciuto tantissimo Quindi non ho motivo Di non tenerlo Lo tengo Vado a declutterare Il fondotinta Tanti stick Di Uda Beauty Non lo uso più Tengo L'Hydro Maniac Di Urban Decay Della linea Stay Naked Ovviamente Tengo Il Close Up Futuristic Foundation Di Nabla Questo è il nuovo Visto che You May Say Fanno le stesse cose The Skin Di Besauda Lo tengo Questo nuovo Di Neve Cosmetics Devo ancora provarlo meglio Lo tengo Crema di Nars Io veramente Per mia esperienza Mi trovo bene Con tutti i fondotinta Di Nars Sono le mie due colorazioni Estiva E classica La tengo Le tengo tutte e due Cioè capite che Mi piacciono talmente tanto Perché tengo due colorazioni Woman Beauty Say What Foundation Molto molto carino Tendenza A essere bello opaco Lo decluttero Però se cercate qualcosa Di opaco Con una buona coprenza È molto bello Very Valentino Lo tengo Perché è costato un rene Il Syncroskin Quello luminoso L'ho usato poco Quello Radiant Lo tengo È stupendo Come amo E ho amato Da morire Questo qua Classico No lo tengo Dai Io li sto togliendo E continuo a rimetterli Finché non si svuota il cassetto Così ho anche l'idea Di quello che sto Tenendo Non tenendo Sisi cream Elf camo concealer Troppo spesta Per i miei gusti Anche se non è Niente di importabile La decluttero Decluttero La multi Dew Di Glowish Terribile Tengo questa qua Di nude sticks Molto molto bella La colorazione è un po' scura Ma lo tengo Decluttero Il transform matte Di Natasha Denona È stupendo Ma è bello che è scaduto E l'ho veramente usato tantissimo Per essere un fondotinta È bello 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 25N It's in on light Lo ricomperò sicuramente Appena finirò un po' Di fondotinta Perché mi era piaciuto molto Cloud shape tape Di Tarte Non mi ha impressionato Sinceramente Ed è troppo scura La tonalità Quindi lo decluttero Decluttero Questo qua Di essence È veramente caruccio Però oltre a Quando faccio Dei contenuti Low cost E ora ho altre scelte Che poi vedrete Non lo utilizzo Perché sinceramente Vado a scegliere Altre tonalità Più centrate Su di me Quindi molto bello Ma lo decluttero Decluttero Il luminos matte Di Huda Beauty Vado a tenere Il fondotinta Di Anastasia Me l'ha gentilmente Reinviato L'agenzia di comunicazione No Questo qua È quello vecchio Scusatemi Quello che avevo io 220N Questo qui E quello nuovo È il 210N Quindi tengo questo qua Con la colorazione Più aggiornata Ed è clattro quello Che comprai io Che è bello Che è scaduto Ah no Ci mancavi solo tu A russare Stesso discorso Che ho fatto per essence A parte che ho deciso Di non collaborare più Col brand Ciglam Non tanto perché I prodotti non mi piacciono Sapete che alcune cose Mi piacciono tanto Altre meno Trovo un ottimo brand A livello di price point Ma semplicemente Il brand voleva Un contenuto ogni mese E non erano quelli Che vi guardavate di più Sinceramente Quindi io sono fatto così Nel senso Ok il cash Però se è un contenuto Che non vi interessa Non so ogni volta Che video dedicato a fare Lascio perdere Quindi non lavoro più con loro Però è un bellissimo Fondotinta E idratante Resiste anche bene A un bel finish Tengo prodotti Sulla stessa linea Di brand Con cui lavoro Che vi mostro di più Devo declatterare Attualmente Il fondotinta Oh my love Di Clio Perché purtroppo Su di me Lucida tantissimo Vorrei declatterare Questo qua Rixx Revolution Che è un po' Un wannabe dupe Dell'Hollywood Flawless Filter Di Charlotte Tilbury Per me è troppo illuminante Troppo spesso A livello di perla C'è troppo Rispetto a Charlotte Che è più spesso Quindi tengo Charlotte Sto declatterando Raga Un casino C'è molto di più Di quanto tengo Per ora Declattero l'Instabake Di Beauty Bakery Troppo troppo opaco Ed evidente Su di me Tengo assolutamente Il Magic Wand Di Mesauda Uno dei più belli Palesemente Tengo lo Sheer Glow Di Nars Vi ho fatto una capoccia Tanta con questo È magico Comunque se la formula Di fondotinta Si separa Raga Non abbiate paura Tengo il Waterton Di Make Up Forever Molto molto bello Mi piace tantissimo Anche lui A base di acqua Vedete si agita Si ripiglia Veramente figo Di Rimmel Mi piacciono molto Tutti e due Questo ha un finish Molto bello Anche questo ha un finish Molto bello Questo ne devo mettere Di più Rispetto a questo Quindi tengo questo Che ha anche l'SPF E vado a manetta Subito Mentre questo lo devo Stratificare di più Però è promosso È molto bello Tengo questo qua Di She Glam Nella versione più opaca Perché sicuramente Lo potrò sfruttare meglio Rispetto a quello idratante Quindi lo conservo Devo declatterare raga Il fondotinta di Gucci A parte che si è separato tutto Vabbè basta Agitarlo Però Niente di che Non lo uso mai Se non per affossarlo Nei confronti Con il low cost Quindi lo declattero Declattero Una boccetta Dello skin realist Di Nabla Ma di cosa parliamo Lo tengo Declatteral all hours Di Yves Saloran È stupendo Però ce l'ho da più tempo E vorrei testare Nuovi fondotinta Bellissimo Però Gli ho dato un voto altissimo Nella recensione di fondotinta Mi piace un sacco Tengo l'authentic skin E quando guarderete questo video Avrò già fatto l'attività Con Clinique Chissà Mi piace da morire Questo fondo L'ho riutilizzato Anche di recente Appunto Perché ho dovuto Forci l'attività È veramente perfetto Per una pelle grassa È top Tengo il Natural Radiant Longwear Foundation Di Nars Dov'è il fuoco? Dov'è il fuoco? Qui Molto molto bello Tengo il Face Tape Di Tarte Mamma mia Declattero La CC Cream Di It Devo essere veramente cattivo Tengo Ease Drop Di Fenty Tengo Yves Saloran La versione idratante Rispetto allo L'Hours Quindi tengo questo Tengo questo qua Di By Terry Con l'acido ialuronico Non l'ho ancora aperto Declattero Luminous Silk Di Armani È bellissimo Ma su di me Ovviamente lucida Tantissimo più Di altri Fondotinta Glow Tengo lo Studio Skin 15 Hour Di Smashbox Molto molto bello Idratante Ma gestibile Come piace a me Non lo so Allora vi dico Lo terrei per il pack E per collezionismo Porca miseria I pack di Charlotte Raga Sono i più belli Per me Dai ne ho declatterati Un quintale Però non lo uso Però you never know Magari devo Chissà La mia vita Che fine farà Devo niente Vabbè lo tengo Perché è bello Ciao Tengo L'All Covered Di Inglot Tengo Il Forever Natural Di Diora Anche se lo vorrei declatterare Perché non mi dice niente Ma ce l'ho da poco Declatteral Traceless Di Tom Ford Mi piace molto Ma oggettivamente È fuori budget In generale Per molti È da un certo punto di vista Di poco interesse Per voi Quindi Seppur Bello A livello Di contenuti Posso utilizzarlo Poco per voi E ne ho altre Che utilizzeremo Declatteral Vanish Di Hourglass Mi fa morire il pack Ma mi ha deluso Un sacco Tengo lo stay neck D'uno dei miei preferiti Sempre di Urban Decay Pronto Invece di inquadrare Ava e Mei Ok Tengo Rare Beauty E tengo il nuovo di Charlotte Tengo questo qua Di Dior In spray Ho visto nel video Che mi avete chiesto Dove l'ho preso Su Amazon.com Sconsiglio a chiunque Ma quello avevo detto Comunque sconsiglio a chiunque Tengo la tonalità 5 Di quello di Charlotte E declattero la 4 Scusatemi Comunque volevo fare Un appello ai brand Fate i fondi Un pelo più piccoli Perché se no Non si chiudono nei cassetti Ecco Scusatemi Mi ho trovato dei superstiti Vabbè Tengo questo qua Di Make Up For Ever Che forse sono stato Frenteso raga A me piace È bello Semplicemente Visto le reaction E le varie rece Mi aspettavo qualcosa Di più levigante Sui pori Quindi non ho urlato Al miracolo Però è bello Lo tengo Tengo questo sublimatore Di incarnato luminoso Di Kevin O'Kwan E tengo il primer Anzi no Lo declattero Perché ci avrà Minimo 500 anni Dall'odore credo sia scaduto Però è veramente splendido Come primer Lo declattero Per una questione igienica Circa Fra primer E fondotinta Circa 60 declatterati Non si scherza Ok Passiamo Ai correttori Penso che sia Il declattering Più lungo Della storia Della mia vita Non dico di youtube Perché non sono così Megalomane Però Allora Questo qua di Nars Dove Comunque Avamei Che leva il focus La odio Ce l'amo Con la candela Ma la odio Correttore in pot Di Nars Non lo uso come correttore Ma lo uso come base Nei contenuti Perché fa sfumare Gli ombretti Veramente bene A livello di long lasting Non garantisco Perché non lo uso Per uscire Sapete che Non esco con l'ombretto E Però lo tengo appunto Come base Perché si sfuma bene È bella coprente E me piace Leviamoci Nars Allora Radiant creamy concealer Io sono sempre stato Un sostenitore Del fatto che Questo correttore Non fosse radiant Ne creamy Ma che cacchio Ne radiant Ne creamy Ma abbastanza secco Continuo a sostenerlo Ho trovato un po' Il modo di farlo funzionare Lo tengo semplicemente Perché me l'ha mandato Look fantastic Da poco Quindi Riesco a utilizzarlo Lo tengo Questi due tonalizzanti Sono molto cute Vado a tenere quello più chiaro E declattero quello più scuro Orrendo Orrendo Di revolution Start shape tape Declattero la tonalità medium Perché è troppo scura E tengo la light medium Che è la mia tonalità perfetta Allora io i correttori Vedo sempre che mi chiedete Le colorazioni Io non so come voi facciate A matcharvi Da uno schermo online Vi amo Perché la vostra vita È molto più semplice Della mia Io quando scelgo I correttori Li scelgo Molto vicini Al mio incarnato Difficilmente Ne scelgo uno Molto chiaro È molto raro Deve esserci uno sbaglio Questo di Givenchy Lo tengo È splendido Idratante Morbido Sottile Tengo anche questo One size Di Patrick Star Disponibile da Douglas Tengo Oh mamma Tengo questo qua Di mesauda Da detto mamma Perché so che non declatterò nulla Qua N40 Anche questi Reduci sempre Da decluttering Altro N40 Lo tengo di scorta E tengo di scorta Un altro N40 Ah no Questo è un V60 Per quando sono abbronzato È uno dei miei correttori preferiti Quando non voglio nulla di mega peso Mamma mia Questo qua non mi è piaciuto proprio Lo declattro Peccato perché il fondotinto è bellissimo Ahimè Devo declatterare questi qua Di Juvia's Place Sono stupendi La formula è bellissima Come potete vedere Anche dai tappi Li ho usati Dove vai tu? Ah un altro di Revolution Via Voleva essere declatterato Però sono veramente Vecchissimi raga Abitavo ancora a casa dei miei Sono da un anno e mezzo qua Cioè no Lo tengo anche se è praticamente finito Cioè Sappiatelo Allora Questi qua di Nabla Tengo solo Medium Peach Per tonalizzare l'occhiaia L'ho sempre detto Lo ridico anche qua La versione di Closa Per me è troppo secca La riesco a utilizzare Quella i car routine Che sto avendo Da un annetto Da qualche anno A questa parte Però Tengo solo questa Semplicemente Perché magari mi può servire Nei contenuti Blah 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 Mentre invece Tengo Regeneration Che è diventato Uno dei miei correttori preferiti Con una formula Estremamente morbida Rimpolpante E levigante Long lasting Fa una bellissima aderenza Lo adoro Lo consiglio A tutti A stupendo Tengo il correttore Di Anastasia Effettivamente In ordine cronologico Uno degli ultimi correttori Che mi ha Letteralmente Spettinato Due li ho comprati io Poi uno me l'ha mandato All'agenzia E in tonalità chiara e scura Ce n'è uno lì a terra Ora lo recupero Ora sono due tonalità Vinci dal mio skin tone Una tonalità estiva E una tonalità per fare bronze Che è un correttore Altamente performante Coprente Sottile Levigante Veramente bellissimo Declattero questo qua Di Hourglass Perché è troppo giallo Declattero questo qua Di Revlon Che sono due Perché sinceramente Me l'ha mandato Look Fantastic Ma non mi dice niente Lo declattererei eh Però È nuovo Siccome Che vi diva Sempre virale Si sa male Mi serve per qualche contenuto Satana Cosmetics Questo me l'ha rirrimandato Maki Beauty E lo declattero Perché non lo uso mai Neve Cosmetics Ristretto Concealer Ma quanti cavolo sono Questo per quando sono abbronzato tan Medium per adesso Double tan Lo declattero Bellissimo correttore Una delle uscite più belle di neve Ultra Creamy di Tarte È bellissimo Lo preferisco allo Anzi sì Devo essere cattivo Declattero lo Shape Tape Tengo Ecco scacco matto L'Ultra Creamy Tengo questo qua di Rimmel È una via di mezzo Fra lo Shape Tape E l'Ultra Creamy Non secco Non asciutto Ma non idratante Tengo questo qua di Elle Tengo quest'altro di Elle Per versione idratante Declattero LA Girl Tengo Inglot Ancora Tengo questo di Backup Di Mesauda Declattero Milani E Declattero Too Faced Che amo alla follia Ma è scaduto Cioè È veramente più È più vecchio di me Tengo Udo Beauty Perché è Quello che ho ricomprato Nella tonalità Sugar Biscuit Quella più aggiornata Tengo Gli Oh My Love Di Clio Però tengo direttamente La tonalità 7 Che è più scura Declattero Questo correttore Di Inglot All Covered No non è All Covered Un altro però Ho tenuto l'altro All Covered Charlotte lo declattero No lo tengo Dai lo tengo Però tra l'altro È già finito Ho usato 4 volte Eh ma doveva ripassare L'aereo Era Cioè proprio Alla palissiana Questa cosa Penso che questo video Durerà un'ora Sto facendo tutto il viso Ho fatto primer Fondotinta Sono ai correttori Mancano blush Cipre Bronzer Illuminante Ciao Poi Bellissimo Di Jouet Scaduto Bellissimo Di Urban Decay Scaduto Purtroppo raga Facendo content creator Dovendo stare al passo Con le novità È sempre un problema Colourpop No filter Concealer Bello Ma preferisco altre Nudestick Lo amo raga Compratelo È bellissimo Power Fabric Lo amo Lo tengo Di Armani Geisha Lift Diego Dalla Palma Lo amo Lo tengo Bellissimo Questo qua Di Clinique Lo amo Lo tengo Mama Beauty De Clattero Beauty Bakery Troppo secco Mi dispiace Rarview Sei troppo chiaro Però il correttore Proprio non mi piace È troppo idratante Questo è troppo scuro Di Mesauda È un correttivo Wow Mi sa che Sono stato Veramente bravo Veramente Cioè Andiamo con le ciprie Allora Farò un mischio In realtà Perché È tutto insieme Quindi passiamo Blush Bronzer Illuminanti E ciprie Che è la situa Più grossa Nella mia Makeup Collection Perché io sono Molto amante Di questi prodotti Viso Faccio fatica A separarmene Perché dico Eh ma quella Invece è così Cosa Cosa Rimane Che sono tutti I miei Prefe Che declattero Per una questione Di sopravvivenza E apertura Nuove tecnologie Nuovi ingressi Nuovi prodotti Vado a declatterare Probabilmente Quasi tutte Formule Che mi piaceranno Vi ribadisco Questa cosa Perché è giusto Allora Skin Glazing Di Nabla Soggettivamente Fra le polveri Migliori Che io abbia Privilege Lo tengo Ozone Ha la perla Più brillante Lo tengo Lola È il blush Loro Che utilizzo Di più Assieme a Truff Sono questi due Più rose gold E uno più rosato E già Non ho declatterato Un c***o Poi Tengo sempre Di Nabla Crown Ma Nabla Nabla So che Mi senti Mi guardi Perché non rifacciamo Questo Divinizer Tipo Comunque Questo non riesco A declatterarlo È proprio la tonalità Perfetta Sul mio incarnato D'estate Ed è bellissimo Lo tengo Poi una Limited edition Non la vedremo mai più Salvo che Qualcuno in questo video Abbia deciso Di ascoltarmi Ma non credo Tantour Di Huda Beauty Forse il mio prodotto In crema migliore Raga è Ridotto all'osso Poraccio Ha fatto proprio Una brutta vita Lo declattero Lo declattero Per Lontani oggi Per abbracciarci Più forti domani Lo declattero Per ricomprarlo Più forte domani Inglot Mamma Inglot fa Degli illuminanti Extra Che io amo Più di me Questo qua È molto particolare Lo declattero Per un semplice motivo È troppo chiaro Per me Lo vedete già Dallo swatch È troppo chiaro Però la formula Di Inglot Soft sparkler Se amate Gli illuminanti Bagnati A cattare Mentre Il medium sparkler Che è questo qua Sono gli illuminanti Nel vero senso Della parola Più potenti Che ho E questo qua È proprio peach È bellissimo Non si vede un casso È bellissimo E lo tengo Preferisco tenere Una tonalità così Più calda Che una più lime Quindi tengo questo E faccio molta fatica A separarmi dagli illuminanti Soprattutto a quelli di Inglot Perché per me Sono veramente Extra E belli Come mi piacciono a me Io li consiglio sempre tantissimo Perché sono stupendi Vabbè vado un po' a muzzo Cipra di Givenchy Manco a dirlo La tengo Cipra della Sorauda Tonalità Pound Cake La mia La più bella che ho Basta Lo dico ciao E Vaffanbrodo Bronzer Di Tarte È bellissimo raga Ma ha un odore Non riesco a utilizzarlo Non dico che puzza Ma ha un odore Veramente brutto Lo declattero Poi Chi è questo Orangina Di Mesauda Collaborando col brand Un brand Un brand Un blush aranciato Bellissimo Luminoso Con questi qua Cattare su stupendi Lo tengo Captivating Blush Di Tarte Bellissimo Lo tengo In bronzing In Dune Perfetto per il mio Incarnato di Nabla Lo tengo Ho un mancamento Perché non c'è I cannot I cannot I cannot I cannot Mamma Cipra compatta di Armani Raga Luminous Silk Tengo è magica Cipra compatta di Essence La tengo per qualche contenuto Super ultra mega low cost Raga ma sono tutti belli Questi illuminanti di Bobby Brown Raga è bellissimo Bobby Brown Non ce lo pisciamo Neanche di striscio Ma che bello è Declattro Inutile Eh amici Io vi giuro Questi qui Questi Questi Queste due ragioni Queste due ragioni Di Nabla Io non Posso Ma quanti sono? Ne erano quattro Ah ce l'ho addirittura Ah uno è di Omar Vabbè Si tengono Tassativamente Tra l'altro Ho sfruttato l'utilizzo Che hanno Anche quello delle labbra Sono bellissimi sulle labbra E poi ci stanno Tutti nell'Alex Secondo me Nabla Anche qui ho una domanda Avete fatto la misura Del pack Per stare nel divisorio Alex Perché non c'è nulla Che fitti così bene Tutti e cinque Bam 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 Comunque vabbè Anche se sono quattro Però pace Che figura misera Tengo assolutamente Calidream Di Melt Blush in crema Per scatto Sublime Bellissimo Divino Amo Allora Io lo terrei Vi giuro Di G1 Chic Però se penso a qualche illuminante durato Che ho Ne ho già altri Però lo tengo Ignoratemi Tengo Amresi Di Anastasia Perché non lo rivedremo mai più Andiamo diretti sui Viv Ah ecco Vedi Ho un declatteri Tengo Oli Chic Che è il mio colore E declattero Quest'altro Che ho utilizzato un botto Mi piaceva tantissimo No tengo Bijou Che è il mio colore E declattero Holy Chic Perché è troppo scuro Io comunque andavo in giro Con la strisciazza Perché mi piace molto La texture Tengo Pesca Di Viv Che è tipo Il blush pescato Più bello Che ho In assoluto opaco E se non l'avete accattato Raga Tengo Sorbet Sempre di Viv È un blush corallo Lo tengo Ora tengo Rimmel Declattero Questo illuminante Qua Ricatrice È bellissimo Una formula fantastica Io sono un po' più High end Come gusti Lo sapete Non disdegno Il low cost Trovo anche Peculiarità Nel low cost È una bombazza Questo illuminante Se cercate qualcosa Di low cost Avendo Quelli che ho Questo lo uso Di meno Pazzesco Lo consiglierei Tutti i giorni Per il prezzo Che ha Semplicemente Uso altro Allora Blush Di Charlotte Tilbury Tengo Pillow Talk Di Charlotte Tilbury Che è proprio Una tonalità Blu ciacchiata Very very bella E poi Vado a tenere La mia tonalità Preferita Che è Ecstasy Che è una tonalità Nude Un pelo più rosata Vado a declatterare Questo bronzer Luminoso Di Inglot Perché è Troppo troppo Perlato Ecco vedete Se devo scegliere Un illuminante Low cost Vado a scegliere Questo qua Con Layla Loves Perché è più bagnato Tengo questo illuminante In polvere Libera Di Inglot È meraviglioso Tengo questo blush In polvere libera Di Givenchy È stupendo Un po' freddo Devo dire Però mi piace molto Ahimè Devo declatterare La cipra di Kimchi Perché Boh Non mi dice Non è Non mi fa Ne caldo Ne freddo Tengo questo blush Di Pat È una tonalità Che uso poco Devo dire la verità Però È di Pat E quando mi ricapita Raga io Sincera Lo sapete How many carrots Ho questa tonalità Del blush Di Glowish Perché è troppo chiara E troppo fredda Su di me Sembriere sia peach Non si vede neanche Tengo questo blush In crema Di Raphai Citrine Che è un arancione Bruciato Non ho un colore In crema così Tra l'altro Ho comprato anche Le matite labbra Che durano per sempre Perché hanno tipo Il sigillante Come NYX E non vedo l'ora Di utilizzarlo Finalmente Una bella paletta Di illuminanti Da parte Della Sheikona Tengo questo qua Raga di Revlon Eh vedi Anche rispetto a Catrice È più bello questo Per me È più bagnato È più forte Beh dai Sto Ho tenuto tanto Eh però Lo vedo Che si svuota Ah no Fermi tutti Di Inglot Tengo questa tonalità qua Ed eclatero Questa è troppo gialla Poi Cipra di Inglot Piccolina Under eye Smoothing Bellissimo Cioè guardate Quanta ne è rimasta La tengo perché È proprio bella Blush di MAC Bellissimo Ed è un regalo Li tengo Mamma Sono illuminanti comunque Con gli illuminanti Raga io faccio fatica Fena faticona Fenty Crema E polvere Veramente molto Molto belli Li tengo tutti e due Soprattutto il bronzer In polvere Omar solo si ricorda Forse anche Flavia La mia amica Qua Che mi ha regalato Quello di MAC Tra l'altro Quanto io ci abbia messo A prendere quello di Fenty Perché lo schifavo Sempre no è troppo arance Troppo arance Troppo arance E poi come un pagliaccio L'ho comprato Il luminante di Kylie Raga lo sto usando Veramente tantissimo Ultimamente È bellissimo Cioè è bagnato Come piace a me È peach Bello 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 Passiamo A altri prodotti Ah un blush luminoso Raga Che metterò stasera È questo qua Di Melt Io ho tolto la trama Usandolo eh Quindi vuol dire Che per quanti ne ho Buzzkill Si chiama Bellissimo Stupendo Lo tengo Poi mi piace il fatto Che abbia questo pack Così Color Mutrugno Allora Cipra di Charlotte Raga Declattero questa E tengo Questa qui Tonalità light Bellissima Stupenda Mamma mia Questo Profusion bronzer Di Make Up For Ever È la vita È bellissimo Guardate come l'ho penciato Però è vecchio Però è bello Me lo ricomprerò da solo Sì perché questo Mi era stato inviato Però me lo ricomprerò Senza problemi Sia chiaro Ovvio Come ho sempre fatto Quando voglio qualcosa Però è bellissimo Se siete in dubbio Prendetelo Perché se cercate Un bronzer luminoso Extra sottile Accattatevillo Cipre di Nabla I miei cari amici di Nabla Chissà se sono ancora con noi In questo video A guardare Medium E light Le tengo tutte e due Semplicemente perché D'estate uso la medium E d'inverno La loitz Bronzer di Glowish Lo tengo Ahia che male Molto molto bello Tonalità 3 È veramente delicato Come pigmentazione Quindi la 3 Va bene per me Insomma Cipre di Charlotte Meh Meh Vorrei provarla di più Ma not convinto Cipre di Astra Quella in polvere di riso Very bella La tengo Blush di Patrick Ta Lo tengo Questo illuminante Qui È di Satana Cosmetics Che mi ha mandato Maki Beauty Lo tengo Mentre decluttero Questa tonalità Wet Dream E tengo Supreme Dream Che è l'altra O Supreme qualcosa Insomma Blah 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 Blush di Milani Bellissimo È lo 01 Dolce Pink Allora da qualche parte Ci sono i blush di NYX Quelli luminosi Quadrati Low cost Che vi faccio sempre vedere Che sono bellissimi Che volevo dire No comunque decluttero Questo illuminante Di Gwonshi Non ce la faccio Non ho spazio Pronto pronto Via 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 Allora Che dire raga Non finiscono più Cioè butterei tutto Senza guardare Per disperazione Questo qua di Florasis È stupendo Mi è piaciuto tantissimo Oggettivamente Lo uso poco Lo decluttero Per una questione di spazio Ma quello che ho detto Nel video rimane E sto notando Con piacere Che sto molto dietro Di più ai brand italiani Quindi questa cosa Mi piace molto E voglio rimanere In quel mood Blushing stick Di Clinique Il Chubby Questo qua Molto bello Decluttero La Contouring Palette Di Essence Non perché non sia valida E top Ma O altro Allora Veniamo alle cipre Di Mesauda Mi piacciono moltissimo Ho avuto il piacere Di presentarle Sul loro Instagram Mi sembravano Veramente Chiare Io uso la 1 La mischio Con la 2 Per chi è Molto più chiaro Di me Non c'è il colore giusto Quindi non è inclusivo In questo senso Di più chiari Mentre secondo me Per degli scuri Abbastanza scuri Tipo Omar Usa la 5 Le cipre sono 8 Per un incarnato Extra deep E extra fair Non c'è soluzione Purtroppo per ora Spero che ne aggiungano altre Si può sempre migliorare Quindi vado a declatterare Tutte quelle nel mezzo Tenendone una Per l'estate Tengo questa qua Per Omar Che Guardate quanto è scura Effettivamente Che d'estate diventa molto scuro Gliela lascio Lui le adora Queste Le altre le declattero Tengo questo qua Di KVD Che è tipo How many carrots Ma rosato E levo Mi sono risposto da solo How many carrots Lo tolgo Perché quello è più argento Questo è più caldo Io preferisco sul viso Cose più calde Declattero il bronzer Di Bobbi Brown Carino ma lo uso poco Declattero questo blush Di Physician Formula Declattero questa cipria Di Revolution Che comprai Per fare una comparazione Di Too Faced Carina ma preferisco Too Faced Declattero questa cosa Bruttissima di Glowish È perla Spacciata Per cipria Non vuole farsi riprendere Perché si vergogna Ma mi vergognerei Anche io È veramente Veramente Una texture Brutta Tengo assolutamente Mi Amore Blush di Viv Che è la vita Tengo questo illuminante Qua di Floor Resist Perché è veramente Molto molto bello Il pack Ed è molto bello lui Tengo il bronzer Padella Di Charlotte Uno dei miei bronzer Prefe Declattero questo bronzer Di Kylie È leggerissimamente Un po' freddo Su di me Questo chi è Tengo questo fondo Compatto di Shiseido Raga Non davo due lire Ma quando non voglio Mettere fondo tinta liquido Questa texture È speciale Bellissimo Tengo blush di vino Di Milani Declattero la cipra di Shiglem Una tonalità un po' troppo calda Declattero No Questo qua di Inglot Comunque vedete Io ho Un grosso debole Per gli illuminati di Inglot È veramente riflettente Lo tengo Lo amo Tengo questo blush In mousse Di Shiseido Era appena caduto Scusate Momoco Bellissimo Tengo i tre blush liquidini Di Natasha Denona Primo pacco PR Del brand Quindi lo tengo per ricordo Sono molto molto acquosi Però ok Tengo questi blush liquidi Qua di Milani Che a paragone di prezzo Valgono come quelli di Delona Durano uguale Sono già più pigmentati di base Quindi io opterei per questo Colore coral E wine glow Bellissimi Tengo blush e stick contour Di Shiglam Veloci 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 Tengo chiaramente Questi due di Charlotte Tilbury Il luminante rosato Che uso come blush E contour wand Declattero Questo signorino qua Di Armani È troppo liquido Non si vede neanche sul viso Tengo i blush Di Made by Mitchell In Peach Sugar Questi sono i stick Mesauda Blush 101 Into the Nude Di Nude Sticks E il bronzer di Nude Sticks Li tengo tutti e tre Declattero questo blush liquido Un po' troppo geloso E acquoso Di XX Revolution Ma molto carino Perché da qualche parte Ho Orgasm di Nars E quello dupe di Orgasm Tengo Blush in stick Di Kylie Jenner Bronzer liquido E blush liquido Di Shiglam Non siamo ridicoli Non perdiamo tempo Tutti i blush Di Rare Beauty Li posso usare tutti Sì Sono la cosa più bella Che stia toccando Le mie guance In questo periodo Vi amo Vi tengo Facciamo così Che faccio prima Perché la registrazione È andata a fan brodo Ho tenuto tutta questa roba Tutto Rare Beauty Tutto Rare Beauty Charlotte Tilbury Wand Made by Mitchell T Nude Sticks E Mesauda Ciao Comunque raga Io potevo Fermarmi Però Non avrei Cioè non sarebbe stato reale Perché ho un botto Di altra roba Chi arriva a fine di questo video Veramente Vi voglio bene Allora Tengo questo blush Di Dior Rosato Tengo questo blush Arancione Che non è arancione Ma è corallo Di Dior Devo dire che questi prodotti Dior sono magici Li tengo Declattero Tutta quella serie di dupe Che ho comprato Per i contenuti Tenendo gli originali Quindi declattero Questo qua Di XX Revolution E tengo Le Beige Di Chanel Il bronzer in crema gigante Essendo che ho ottenuto Dior Regalo Vabbè Declattero Regalo Ormai lo sapete Questo qua Di XX Revolution Con la colorazione Gitar Se volete vedere Tutte queste comparazioni C'è Instagram Tengo assolutamente Glowplay Blush Meravigliosi Di MAC Tengo questo bronzer Giga Di Iconic London Tengo la cipria Compatta Di Bite and Reese Se siete una pelle secca Amerete Tengo la cipria In polvere libra Di Rare Beauty Tengo questo Illuminante Di Kylie Jenner Bellissimo Palesemente Tengo la mia amatissima Di Too Faced Prendam Poreless Cipria della vita Tengo la Hydra Butter Di Diego Dalla Palma Cipria Idratante Se avete una pelle secca Top Tengo La camisa nera Tengo questo Duo di cipria Di Dragon Beauty Per illuminare Sono molto molto carine Tengo I Need a Nude Glow Di Natasha Denona I Need a Vacanza Declatero raga Semplicemente Perché l'ho usato Per millenni E al buco Lo ricomperai Mille altre volte Probabilmente lo farò Ma voglio continuare A utilizzare altro Questa Contouring Sculpting Powder Di Natasha Denona Ha fatto il suo corso Tengo la palettina Di illuminanti Wow Glow Di Mesauda Vecchia come il cucco Ma non mi interessa Tengo questa palette viso Di Bite and Rie Perché è nuova Ovviamente Tengo questa palette viso Di Nars Che è la palette Che penso di aver utilizzato Di più in tutta la mia vita Mi sono dimenticato Di metterla nei preferiti Dell'anno Perché non ce l'avevo Sotto mano Capite che persona sono Tengo la nuova cipria Di Make Up For Ever Che mi piace molto Tengo questa cipria Penso che al prossimo Un arancione Secondo cosa consigliatissima E avrò Avrò dimenticato delle cose Ma vogliatemi bene Così come sono Grazie mille Per aver guardato il video Lasciate il like Con un commentino Siete le persone Più forti E resistenti Al mondo Voglio un mondo di bene E ci vediamo Settimana prossima In grazia di Dio O lunedì Dipenderà quando pubblicherò Questo video Mua O lunedì